La festa della creatività, qui secondo me c'è la vera creatività, tra la musica ultilaziale, i bambini che ascoltano, l'espressione artistica di Gigi va al mercato. Il web 2.0 è qui nella condivisione, condivisione è l'espressione dell'idea tramite la musica, tramite l'arte, il disegno, la pittura, il recupero. Grazie. Grazie.